ciao a tutti amici di youtube io sono fabio e oggi andiamo a vedere un'installazione di un importante sistema operativo microsoft ovvero windows server 2012 nello specifico l'aggiornamento r2 l'installazione è stata effettuata attraverso una macchina virtuale con il programma one aware utilizzato anche per altri sistemi operativi microsoft che potete trovare benissimo nel mio canale andiamo al dunque iniziamo ad introdurre che cosa windows server 2012 successivamente in particolare la versione r2 allora questo sistema operativo ha un nome in codice chiaramente denominato windows server 8 è stato reso disponibile al pubblico il 4 settembre 2012 e la versione r2 il 18 ottobre 2013 da specificare che windows server 2012 è la versione server di windows 8 mentre windows server 2012 la r2 la versione server di windows 8.1 windows server 2012 chiaramente il successore di del 2008 r2 ed è stato sostituito da windows server 2016 introduce una nuova interfaccia grafica nel linguaggio di design modern ai abbiamo diverse novità che ora non vi sto ad illustrare perché appunto sono numerose ed anche possono sembrare difficili quindi vi lascio il link in descrizione della pagina di wikipedia in modo che potete dare un'occhiata andiamo direttamente allora a parlare dell'aggiornamento r2 quello che ci interessa maggiormente allora possiamo dire che è stato reso disponibile in quattro edizione la foundation all essenzial lo standard e il data center come nella versione windows server 2012 le edizioni data center e standard hanno le stesse funzionalità varie unicamente l'aspetto relativo alle licenze in particolare quelle relative alle macchine virtuali nell'aprile del 2014 è stato rilasciato un aggiornamento denominato windows server 2012 r2 update e cambiamenti rispetto a windows server 2012 sono vari come l'automated tiling cioè la gestione dello storage in modo che i file con più frequenti con più frequenza hanno accesso o sui dischi più veloci windows powershell la versione 4 che ora include le funzionalità desire state configuration il supporto integrato di office 365 interfaccia basata su quella di windows 8.1 inclusa la visibilità del pulsante start macchine virtuali basate sull'uefi l'upgrade della modalità driver emulators e quella scientific hardware drivers per minimizzare appunto l'impatto e l'overhead di sistemi hardware obsoleti una veloce distribuzione di web il protocollo smb dove ci sono stati miglioramenti nelle prestazioni nella qualità di log degli eventi il supporto alla migrazione live nei per view su smb la gestione della priorizzazione di banda la possibilità di disattivare il supporto smb 1.0 l'ip address management il supporto esteso a rb ac permette un controllo molto specializzato in base al quale l'utente può visualizzare o impostare le dhcp reservation i scopi i blocchi di indirizzi p i record di risorse dns eccetera il group policy ha una nuova impostazione di policy shake che permette a macchine partecipanti il dominio di memorizzare una copia delle group policy sul macchina client e a seconda della velocità di accesso al domain controller di utilizzarle in sede di startup invece di attendere che vengono caricate e questo appunto velocizza sensibilmente lo startup delle macchine non connesse direttamente alla rete principale poi il supporto a tls è stato esteso per includere la compatibilità con rfc 5770 che migliora le prestazioni delle connessioni tls di lungo termine e che richiedono alla sessione di riconnettersi in quanto superiore al time out inserito e poi il ruolo di hyperview e hyperview management console che sono stati aggiunti all'edizione essenzial bene queste sono tutte le principali differenze fra fra il primo e il secondo aggiornamento chiaramente come detto in precedenza ce ne sono molte di più e infatti mi invito poi a visitare la pagina di wikipedia noi ci vediamo ad un prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti